Io sì. Ha commesso il diritto con una pistola che gli ho dato io. Ha preso tutte le precauzioni, compresa naturalmente quella di usare i guanti. Ma quando mi ha restituito l'arma, non li arriva. Guarda, eccola qui, è questa. Ci sono tutte le sue impronte. Hai pensato proprio a tutto? Sì, assolutamente a tutto. Pronto? Per favore, centralino, mi chiami la polizia, immediatamente. Ciao a tutti.